Fare memoria e tutelare la Costituzione, figlia della resistenza, promuovere i valori di libertà, uguaglianza, pace e democrazia. Questo è quanto si propone l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, che sabato scorso, nella giornata dedicata al tesseramento, ha incontrato i cittadini e le cittadine nissene ribadendo il messaggio mai più fascismi. L'Italia deve essere ancora antifascista. Noi oggi siamo qui non solo per la giornata del tesseramento, ma per incontrare i cittadini e le cittadine, ribadire quali sono i nostri ideali, che sono quelli dell'antifascismo, sono quelli della pace, dell'uguaglianza, dell'antirazzismo, in una società come quella di oggi, che ha tanto bisogno di ribadire questi ideali che sono contenuti nella nostra Costituzione. Dobbiamo difenderla a tutti i costi. Quindi noi oggi siamo qui per ribadire il nostro principio di uguaglianza, libertà, antifascismo, per un'Italia democratica fondata sul lavoro, fondata sulla pace. Un giorno intero dedicato a temi quanto mai attuali e la città ha risposto con una buona presenza a Palazzo del Carmine, dove sia giovani che adulti hanno approfittato del momento di condivisione per dialogare con i volontari presenti che hanno ribadito e sottolineato l'importanza dei valori di uguaglianza e democrazia contenuti nella Costituzione italiana.